00 12 12 13 14 16 18 19 19 20 Romani sono vivo, io sono vivo, ma non ti fai forte. Non ti fai pagare, ma non ti fai forte. Voi ammalo perché non ti fai facile. Allora, a buoni buoni alimenti, io sto chiuso a cuocere il barbocolo, a cuocere il luogo tu non puoi! Ma sono dei suoni, ma sono dei suoni al giù, chi non ci toglie nulla? Questa è ira riposare e cambia il barbocolo, a che fare dovrò? Vado vado vado, vuoi le cose che vanno? Beh! Vado vado andare! Vado vado andare! Vado? Vado vado andare! Vado vado andare! ahahahahah mi chiamo un po' un po' ahahah ah 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 C'è un po' di più? C'è un po' di più, ma? Happy New Year! Ci sono un po' di più. Tutti i soldi, i soldi, i soldi e i soldi. Tutti i soldi, i soldi e i soldi. Tutti i soldi? Tutti i soldi? No! 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 Non! Ruffles, mi sono già dentro. Come, trucurabili? Linus! Nu credere per la sera! Non c'è c'è! C'è un gioco incipiente? Non c'è mai il più! Non c'è un po' di più! Non c'è un po' di più! Non c'è che? Non c'è un po' di più! No, mi rispettato, mi è edito in casa, se guardiamo a iniziare! Mi sono raffolto! Mi sono raffolto? Mi sono raffolto? Dessutti che sono iniziò a te! la tua la tua è la sua situazione la 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 non è solo per me. Dottor Libani ha detto che ci sono che non è solo per me. Hehehehe 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 Allora, e che ghi ha un po' di un po' di un po' di non C'è un po' di non C'è un po' di non Invece la mia, come si è un po' di non Ma, come si può capire, come è? C'è un po' che ha? no c'è non uso uomo il nostro nome non è paura non è possibile non ho il nostro risultato? sono io e mi devo già ci sono ieri non sono ieri non sono ieri non sono ieri no 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 che Sì, 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 sì. I don't like that, I don't like that. So is this what we are doing? And the house will be the best we have done. Why are you doing this? That's ok. So come on and come back. I'm sorry, and I'm sorry. That's right. So are we going to get this house? I'm gonna get this house. ah 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 C'è tutto il mondo? Non, non. Non, non. Non c'è tanto il mondo. Non c'è tutto questo. Non è successo. Ma perchè vuoi? Ci siamo frovi! Ci siamo frovi! Non c'è il mondo! ciao Sampati carini nuocco di light. Che do gondos e nattro carriola ne vedi di. C'eo e sto tiro sara? A'ma la ruera. Andi c'è l'ancha s'tho? L'ancha! 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 Oi! L'ancha! L'ancha! Ha po! Ha po! L'ancha! Chihiro! Chihiro! Wow! Aici! Aici! M'e c'ea din zir maharani lai! Chihiro! Huh! ... 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 Cosa? 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 Sì, 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 Sì. ah bah BABU! I'vite un'anni da qui! Mi lo! BABU! Come se! Come se! Come se! Come se! Come se! Let's not let us all theci! Come se! Come se! Come se! Come se! La mia famosa, la mia famosa ha fatto una piccola. Come andiamo a casa, come andiamo. Come andiamo a casa, la mia famosa. Bello, come andiamo! Padre! Dio, come andiamo! Si, non si ci sono, non ci sono. Non ci sono più delle giorni. Come andiamo! Non c'è un po' di farlo, non c'è un po' di farlo, non c'è un po' di farlo. Non, non... Non, non! Rani sia membersi sono Like totally Chichi Alla why didn't you K Chihi è uguale Oh! Tu sei? Tu sei lo stesso. Tu sei la mia cosa? Tu sei la mia cosa. È la mia cosa! Il problema è che tu ti metti. È il problema. È il problema. È il problema. Il problema è che ci sono la mia! Eh? Il problema è che ci sono cose che ci sono. Oggi non ci sono? Non ci sono? Si! No! No! Non ci sono? No! Non ci sono? No! C'è un po' qui baxio, qui dà un po' chaccio. Baxio. Aici, pula! Chari, chari! Rani saba aici, illa. Lola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ... ... ... ... Enos, questa è la scuola che è arrivata, mi sono andata, mi sono andata. Enos Dibes Babu, non faccio il lavoro, non faccio i giovani. Rani Saiba! Rani Saiba! Non c'è nessuno, non c'è nessuno, Rani Saiba! Non c'è nessuno, Rani Saiba! Rani Saiba! Don't come uccolo! I'm a f*****! Non sono andata, Rani Saiba! Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno… La f*****! Non c'è nessuno. Non c'è nessuno! no 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 Non è una volta che mi piace, mi piace. Scri Paz Bahareni, mi piace di un'elegge? Mi piace di un'elegge. Mi piace di un'elegge. Mi piace di un'elegge. Se ci sono anche in un'elegge. Mi piace di un'elegge. Poi, la sua vita, è una morte di un'elegge. Per un'elegge, si serve un'elegge, non è possibile per fare. Rani, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Voi vedere? Rani, come and say, Che riesco a fare le cose? Musica! Hei! Oh, FIANTA! Oh, FIANTA! Come si, se fai la sua vita! Come so le fai la mia! Si c'è la mia vita, come and getci, come and walk me! Voi, vai! Voi! Voi! Sì, non è vero! Quattro! E' un po' che c'è? Voi? Grazie a tutti.